Azorin OS 17 è la nuova versione del popolare sistema operativo nato per attirare utenti Windows e macOS verso Linux. Installazione semplice, ampia compatibilità hardware e un'esperienza desktop di alto livello anche su computer datati e poco potenti. Perfetto per un utilizzo immediato e molto intuitivo anche per inesperti. Dettagli, prove e considerazioni. Ciao da Dario da Alternativa Linux. Azorin OS è da sempre tra le distribuzioni Linux che preferisco. Progetto avviato nel 2008 dai fratelli Artyom e Kirill Zorin all'epoca di 12 e 14 anni d'età, dopo oltre 15 anni è una solida e crescente realtà del panorama Linux. I fratelli Zorin provarono Ubuntu e ne rimasero positivamente impressionati. Compresero quanto fosse migliore dei sistemi operativi desktop tradizionali per prestazioni, flessibilità, possibilità di personalizzazione e rischi di virus quasi azzerati. L'esperienza desktop però, differente da quella di altri sistemi, poteva disorientare utenti abituati a Windows e Mac. Di qui l'idea di realizzare un sistema operativo che garantisse immediata familiarità di utilizzo a utenti abituati a differenti sistemi operativi. L'applicazione Zorin Appearance permette infatti di adattare con un clic l'aspetto dei meccanismi desktop alle abitudini dell'utente, che si trova subito a proprio agio senza necessità di imparare qualcosa di diverso. Cucito attorno ad una solida ed affidabile base di pacchetti di Ubuntu nell'edizione 2204.3 LTS e, attualmente, un kernel 6.5, Zorin OS 17 riceverà supporto e aggiornamenti di sistema, sicurezza e programmi almeno fino a giugno 2027. Oltre questa data sarà indispensabile aggiornare la propria versione. Un efficiente strumento di aggiornamento tra versioni, introdotto di recente, a giorni sarà adattato per consentire agli utenti della versione 16.3 il passaggio alla 17. Se usi Zorin OS 16.3, dormi comunque tranquillo grazie agli aggiornamenti fino all'estate 2025. Zorin OS unisce alcuni aspetti della versione più stabile di Ubuntu con programmi anche nuovissimi, originali o riadattati. Ne risulta un'esperienza desktop complessivamente superiore a quella di Ubuntu e con minore pretesa di risorse hardware. Zorin OS viene rilasciato con licenza open source ed è gratuito nella sua edizione Core. Una versione Pro commercializzata alla non modica cifra di 48€ permette di sbloccare tutte le interfacce desktop, di trovare una più ricca dotazione predefinita di software open source di eccellenza già pronta all'uso e soprattutto di accedere ad un servizio di assistenza via email in caso di problemi. Entrambe prevedono edizioni alleggerite, definite Lite, ottimizzate per computer datati anche con meno di 2GB di RAM. Le edizioni Lite di Zorin OS 17 non sono ad oggi ancora disponibili, ma sono sempre rilasciate entro qualche settimana dalla principale. L'offerta del Team Zorin prevede anche edizioni Education, specificamente rivolte all'ambito scolastico. Ne ho già parlato in passato, ma lo farò di nuovo in un approfondimento legato all'uso di Linux nelle scuole. In linea generale, chi sviluppa sistemi operativi desktop basati su Linux non è interessato a farti cambiare spesso il computer. Anzi, il Team Zorin punta sulla continua razionalizzazione del desktop per diminuire l'impegno di risorse che puoi quindi dirottare sui programmi che ne hanno più bisogno. Ma non certo sacrificando aspetto, funzionalità e completezza. Grazie a questo impegno, la nuova versione di Zorin OS può vantare requisiti di sistema inferiori alla precedente, specie per quanto riguarda il consumo di RAM, il cui requisito minimo passa da 2 GB ad 1,5 GB. Io stesso avevo testato Zorin OS 16 e suggerito l'adozione su computer con almeno 4 GB di RAM. Vediamo più avanti se il nuovo requisito è affidabile o no. Ma ecco nei dettagli i requisiti minimi e ribadisco minimi di sistema di Zorin OS 17 Core e Pro. Processore dual core 1 GHz Intel OM-D a 64 bit. RAM 1 GB e mezzo. Spazio su disco 15 GB per la Core, 24 per la Education e 40 per la Pro. Schermo almeno 1024 x 768. Come anticipato, le edizioni alleggerite di Zorin OS dovrebbero fare ancora di meglio. Ad oggi nel sito troviamo quelle della versione 16.3 perché le nuove sono in corso di test e saranno rilasciate entro qualche settimana. Anche se Alternativa Linux nasce principalmente per diffondere la conoscenza e l'utilizzo di Linux Mint, ho parlato di Zorin OS fin dall'inizio. Come per Linux Mint l'ho sempre fatto su iniziativa personale, senza contatti con i rispettivi team e con libertà di esprimermi liberamente. Le mie attività divulgative sono però giunte all'attenzione dei fratelli Zorin per il tramite di un programmatore italiano che collabora al progetto. E stavolta non ho fatto in tempo a procurarmi una licenza Pro di Zorin OS 17 perché me ne hanno fatto omaggio. Ringrazio quindi l'amico Albano Battistella che mi tiene sempre aggiornato, Arteon Zorin per la generosità e Kirill Zorin per la disponibilità. Per l'omaggio ma anche per non aver mai tentato di condizionare il mio giudizio che infatti anche oggi esprimo in assoluta libertà. Infatti questo video non è sponsorizzato da Zorin, ma uno sponsor c'è. Sono quindi felice di accogliere nel canale gli amici di Cabit. Cabit è un servizio di Cloud Object Storage per aziende italiane. Quindi se sei un responsabile IT o comunque lavori nel reparto IT della tua azienda, orecchie aperte, potrebbe interessarti. Non è però un Cloud Storage qualunque, perché Cabit è geodistribuito. Con Cabit i tuoi dati sono cifrati, frammentati in pezzi ridondanti e distribuiti su una rete peer-to-peer su perimetro italiano. Sì, esatto, su perimetro italiano, quindi conforme con il GDPR e tutte le altre normative in tema di privacy. Ma soprattutto questo garantisce massimi livelli di sicurezza, sia contro disastri localizzati, immagina un data center soggetto a guasto, incendio o alluvione per esempio, e contro minacce informatiche ormai all'ordine del giorno, quali i ransomware. Cabit è compatibile con Veeam, Synology, QNAP e tutto l'ecosistema S3. Quindi creare un backup geodistribuito è immediato e semplice, ed è anche molto scalabile e non servono investimenti hardware. Ho detto che i dati sono archiviati su una rete distribuita. Ma chi sono i nodi della rete? Le aziende utilizzatrici stesse, che sono già più di 200, tra cui Amadori, Bologna Airport, Granalolo e altre. Se un nodo della rete Cabit va giù, una procedura di recovery crea automaticamente nuove copie del dato per garantire la ridondanza. Se ti interessa approfondire Cabit o credi possa interessare a qualcuno che conosci, ti lascio il link in descrizione al sito, dove potrai provare il servizio gratuitamente. Ma adesso esploriamo insieme Zorin OS 17 a vantaggio di chi ancora non lo conosce. Allo stesso tempo, per tutti gli altri, vediamo le novità introdotte nell'ultima versione. Zorin OS è disponibile per PC a 64-bit e si scarica in formato ISO, un clone del DVD di installazione, dal sito ufficiale Zorin.com. L'edizione Core prevede un file di 3,5 Gigabyte. Il click mi assegna lo scaricamento da un server la cui velocità è inaccettabile. Per fortuna si può selezionare un server differente per trovarne uno velocissimo. Quando acquisti un'edizione Pro di Zorin OS non è prevista possibilità di selezionare un server differente, ma sarebbe fondamentale per l'edizione Pro che ha un peso di 6,3 Gigabyte. Questo aspetto va migliorato. L'ho segnalato e so che soluzioni sono già in fase di studio. Scaricato il file ISO e preparato adeguatamente il supporto USB avviabile, lanci una cosiddetta sessione live. Valore aggiunto di molte distribuzioni Linux, tra cui Zorin OS, è infatti la possibilità di esecuzione dell'intero sistema operativo e di tutti i suoi programmi anche senza installazione e senza toccare l'hard disk. Il sistema viene caricato temporaneamente nella memoria RAM del PC, in quella che è definita appunto una sessione live, che permette di verificare all'istante che ogni periferica funzioni senza interventi, che è la regola. L'utente trova un menu per selezionare un avvio tipico ed uno definito Safe Graphics per aggirare eventuali problemi allo schermo, solo in fase di installazione, in alcune particolari configurazioni hardware. Utile l'opzione che permette ai possessori di schede grafiche Nvidia di prevedere la contestuale installazione dei driver proprietari già integrati per sfruttarla al meglio. Selezionata l'opzione di avvio viene eseguito un controllo sull'integrità del supporto USB e del file di installazione. L'edizione Pro permette una installazione minima, con la stessa base di programmi della Core o quella completa di tutti gli strumenti definiti Suite creativa e strumenti di produttività avanzata. Con l'installazione minima l'unica differenza visibile tra le due edizioni sta nel fatto che nell'edizione Core sono previste quattro interfacce grafiche mentre la Pro permette l'accesso alle ulteriori 6 disponibili. Come ho già detto però il costo della licenza Pro include il supporto per la risoluzione di problemi all'installazione o configurazione e si tratta di qualcosa di raro nel panorama Linux. Completa la scelta ha la possibilità di disattivare telemetrie anonime rispettose della privacy che hanno l'unico scopo di riportare il numero di installazioni attive. Non fraintendiamo quindi Zorin OS non raccoglie alcun dato personale dai propri utenti, non include annunci pubblicitari e lo sbandiera orgogliosamente in home page. La privacy è ritenuta infatti diritto fondamentale della persona ed è uno dei punti di forza per attirare utenti da OS commerciali. I codici sorgenti di Zorin OS sono ispezionabili e ispezionati, con la massima libertà. È semplicissimo affiancare Zorin OS a Windows o ad altro sistema operativo senza sbarazzarsi del precedente. L'utilità di installazione ne riconosce la presenza e permette di sottrargli spazio per la nuova installazione. Basta trascinare un cursore e non servono competenze avanzate. L'utente che vuole creare manualmente le partizioni può farlo ovviamente. L'installazione completa richiede circa 20 minuti con l'edizione Pro ed un paio di minuti in meno con la Core. L'avvio dopo l'installazione su hard disk richiede una dozzina di secondi nel mio portatile e di meno nel mio fisso. Tempi identici per la Core e la Pro. E confermo l'impegno di appena 1,1 GB di RAM per entrambe. In una macchina virtuale con 4 core e 4 GB di RAM riservati, l'impiego scende al di sotto dei 900 MB. Notevole evoluzione in positivo degli ultimi anni. Può inoltre stupire chi di Linux abbia solo sentito parlare sapere che a fine installazione non è richiesto alcun intervento o installazione di driver e software per aver tutto immediatamente funzionante. Bluetooth, Wi-Fi, impostazioni schermo, audio, webcam. La mia stampante HP è riconosciuta automaticamente nei primi secondi della sessione. E vorrei ricordare che nei rari casi in cui qualcosa non funzioni, la colpa non è di Zorin, non è di Linux, ma di produttori hardware tutt'altro che interessati al supporto per i sistemi open source. In questo caso avere a disposizione il servizio di assistenza legato alla Pro rappresenta una scorciatoia per trovare soluzione rispetto a ricerche web o al forum della comunità. La dotazione di software predefinita anche nell'edizione core comprende LibreOffice, programmi di uso comune per la multimedialità e differenti utilità che permettono di compiere già tante attività anche senza installarne di nuovi. Quando usavo Windows, dopo l'installazione dovevo passare almeno un paio di ore per la messa appunto e l'integrazione di programmi indispensabili. Se passi a Zorin OS o anche Linux Mint puoi dimenticare l'incubo. Il primo avvio di Zorin OS 17 propone una visita guidata che aiuta a prendere dimestichezza con il sistema e a personalizzarlo. Caratteristica insignificante agli occhi di un linuxiano io ritengo possa fare la differenza per un inesperto che prova un nuovo sistema operativo. Per esplorare programmi e impostazioni apri il menu principale. Seleziona una differente interfaccia grafica se vuoi avviando Zorin Appearance. Nell'edizione core sono disponibili le interfacce in stile Windows, Windows List, Touch e GNOME 3. Gli utenti della versione Pro dispongono di ulteriori sei interfacce Windows 11, macOS, Ubuntu Unity, Windows 98, GNOME 2 e Chrome OS. Le ultime due sono novità della versione 17. Gli utenti dell'edizione core però non sono così limitati come può sembrare. Scegli un colore preferito e il tema chiaro oppure scuro. Inoltre le possibilità di personalizzazione di ogni tema grafico sono addirittura esagerate. Se esegui Zorin OS in una macchina virtuale VirtualBox sei invitato ad installare le guest additions per sfruttare a fondo il programma open source di Oracle. Puoi collegare eventuali account Google, Microsoft o altri tramite l'applicazione GNOME Account. Questo permette ad esempio di integrare eventi nel calendario di sistema ed altri servizi. Segue la presentazione di Zorin Connect che grazie all'omonima app Android permette di collegare smartphone e PC in Wi-Fi per sincronizzare notifiche e rispondere a messaggi del telefono da PC usare il telefono come telecomando o touchpad e altre possibilità. Conclude la visita guidata la presentazione del centro software da cui installare con un click nuovi programmi open source è sempre gratuiti. Durante la visita è normale che una notifica desktop suggerisca ulteriori aggiornamenti per il sistema, anche se si è scelto l'aggiornamento in fase di installazione. La ISO di Zorin OS 17 è rilasciata con il kernel 6.2, ma al riavvio, dopo gli aggiornamenti, viene applicato ad oggi il 6.5 e se il PC dispone di una scheda grafica Nvidia è applicato l'apposito driver anche se non si è selezionata la relativa opzione in fase di avvio. La dotazione software predefinita dell'edizione Core è già di tutto rispetto e permette di compiere tante attività anche senza installare nuovi programmi. Nell'edizione Core di Zorin 17 tra gli accessori troviamo l'editor di testo, il file manager Nautilus, Meteo, Orologi. Nella sezione audio-video, Brasero per la masterizzazione, Cheese per la webcam, poi il registratore audio, Rhythmbox per l'ascolto e organizzazione di librerie musicali, il riproduttore video. Per la grafica, l'organizzatore di album fotografici, Libre Office Draw e il visualizzatore immagini. Per internet abbiamo Firefox e Remmina per il controllo remoto tra gli strumenti di sistema, le applicazioni per gli aggiornamenti software e diversione del sistema operativo, l'utilità dischi, le impostazioni Nvidia, il centro software, statistiche energetiche, Wine per l'esecuzione di software Windows, la visita guidata, Zorin Appearance e Zorin Connect. La sezione ufficio prevede il calendario, i contatti, il solido client di posta e agenda Evolution, la suite Libre Office. Tra le utilità, il software per le scansioni, la guida, lo strumento di analisi dei dischi, l'utilità di backup, calcolatrice, gestione di archivi e file compressi, il monitor di sistema, il terminale ed il visualizzatore di documenti PDF. L'edizione Pro, oltre alla dotazione della Core, prevede inoltre tra gli accessori il client BitTorrent Fragments, l'organizzatore di note Planify, il timer Pomodoro, il gestore di password Secrets. In audio-video, la splendida Workstation Audio Hardware 8, Audacity, i suoni rilassanti di Blanket, Endbreak per le conversioni video, Cadian Live Video Editor, VLC, l'app musicale per DJ Mix, Network Displays per la condivisione in rete dello schermo, OBS Studio. Per la grafica, il mitico Blender per 3D ed effetti speciali, Color Picker, l'alternativa ad Adobe Lightroom, Darktable, FreeCAD, GIMP, l'illustrator del mondo libero Inkscape, creata per la pittura, LibreCAD, OpenTunes e Scribus, degno sostituto di Adobe InDesign. Nella sezione Internet è aggiunto l'aggregatore RSS, Feeds. Tra gli strumenti di sistema è preinstallato VirtualBox. La sezione ufficio è dominata da Money per la gestione delle spese, Foliate per la lettura di ebook e fumetti, Minder per organizzare mappe mentali, Xornal++ per le annotazioni a mano libere, ottime su touchscreen. Noto con piacere l'eliminazione dei giochi sia dall'edizione core che dalla pro. In ogni caso, Zorin OS dispone di propri repository, cioè archivi di software verificati, installati ed installabili. Ma il nuovo centro software integra nativamente anche i Flatpak di FlatHub e gli Snap di Ubuntu, che permettono entrambi di usare le ultimissime versioni dei programmi senza problemi di conflitti tra file del sistema. Da non dimenticare che il supporto per l'installazione ed esecuzione di software per Windows è garantita out of the box, come dicono gli anglofoni, cioè già a fine installazione e senza interventi. Lo si deve alla preconfigurazione di una recentissima versione 8 del livello di astrazione Wine e di Play on Linux. Aggiungi le possibilità di installare pacchetti DEB con un doppio clic o eseguire senza installazione i formati AppImage che trovi nei siti dei singoli sviluppatori o in appimagehab.com e possiamo affermare che le possibilità di installazione di software in ZorinOS sono al top. Adesso vediamo le novità della nuova versione. Il menu principale di ZorinOS nell'impostazione Desktop predefinita imita l'aspetto di Windows 7. Personalmente mi confonde un po' che il tatto Windows o Super o Start sia mappato sull'anteprima di attività e non sull'apertura del menu. Modifico quindi il comportamento in un istante. In tutte le interfacce grafiche nel menu è introdotta la ricerca globale. Digita alcuni caratteri e programmi installati o anche non installati ma installabili dal centro software. Impostazioni di sistema, appuntamenti del calendario e documenti personali sono riaperiti istantaneamente. Puoi usare anche il campo di ricerca come calcolatrice o per scoprire in un istante l'ora del giorno in qualunque luogo del mondo. I settori di ricerca nel menu sono personalizzabili con un clic destro sul pulsante menu Impostazioni di ricerca. L'aggiunta di una visualizzazione All Apps permette di ordinare alfabeticamente tutti i programmi e impostazioni di sistema da tutte le categorie. Apro Firefox noto con estremo piacere che non è più previsto il pacchetto Snap di Canonical ma quello flat pack distribuito direttamente da Mozilla. Apro un terminale, digito Snap List e scopro che nessuno Snap è installato. Finalmente, apprezzo tantissimo questo allontanamento dai meccanismi proprietari di Ubuntu. Un principiante di Linux non conosce la differenza tra i formati citati ma può scoprire le criticità dei pacchetti Snap nel mio recente video sul tema. E potrà eventualmente bloccare l'installazione inconsapevole di programmi Snap in Zorin OS seguendo il mio tutorial. Esplorando il desktop di Zorin OS 17 noto il nuovo menu di Impostazioni rapide che integra controlli di volume, gestione di profili di alimentazione, dettagli delle connessioni di rete e Bluetooth. C'è poi un tasto per attivare e disattivare il tema scuro senza passare dall'impostazione temi di Zorin Appearance e uno per l'attivazione del filtro luce blu utile per non ostacolare il sonno nelle ore serali. Da qui si può accedere anche al centro impostazioni, lanciare l'utilità per screenshot e registrazioni desktop oltre a gestire sessioni e arresto del sistema. Apro il centro software da cui si installano nuovi programmi e si aggiorna il sistema e vedo che si tratta dello store GNOME nella nuovissima versione 45.2 della più recente versione di Ubuntu. Tale versione è arricchita di dettagli ed è molto più performante di alcune precedenti davvero problematiche. Così come la disponibilità del kernel 6.5, che garantisce supporto per l'hardware più recente, questo aspetto conferma che Zorin OS non prende a scatola chiusa tutto ciò che trova nella base di pacchetti Ubuntu, ma resta al passo introducendo anche più recenti novità. Come accennato, le origini dei programmi installabili sono molteplici, quasi per tutti. Un elenco a discesa consente di selezionarla e verificare versione e quantità di dati da scaricare. La versione pacchetto sarebbe quella più affidabile, ma potrebbe essere indietro rispetto alla versione flat pack che io suggerisco come alternativa. Il Team Zorin si è concentrato sul miglioramento della gestione del multitasking per la nuova versione. La schermata di anteprima attività ne è un esempio lampante con la sua organizzazione orizzontale degli spazi di lavoro, cioè desktop virtuali in cui puoi organizzare le finestre aperte. Grazie anche alla combinazione di gesti che si ottenne con la pressione del tasto Super o Start e l'uso del mouse, non meno che di gesti multitouch nei touchpad. Desktop Cube e Spatial Window Switcher aggiungono funzionalità 3D all'esplorazione delle finestre aperte. Sono opportunamente disattivati per impostazione predefinita. Ma l'utente che ama effetti in stile Con Pizzo o le wobbly windows di Gnome con la modalità gelatina potrà attivarle e rendere meno minimale l'esperienza desktop. Penso che si tratti degli aspetti meno utili di Zorin OS che è tutt'altro che frivolezze. Da Zorin Appearance effetti si gestiscono capillarmente i dettagli di queste funzioni. Nella sezione Effetti di Zorin Appearance troviamo la novità dell'affiancamento avanzato delle finestre aperte per sfruttare efficientemente lo spazio desktop. Attivandolo, le finestre aperte possono essere trascinate ed agganciate ad occupare metà o un quarto dello schermo. Scorciatoie di tastiera consentono di fare prima. Puoi anche associare azioni all'avvicinamento del mouse agli angoli dello schermo. Il meccanismo è identico a quello adottato da Linux Mint Cinnamon. Io lo uso spesso e gradisco di trovarlo anche in Zorin. Tra le applicazioni ridisegnate troviamo quella del Meteo e specialmente l'utilità per la cattura dello schermo. In stile Gnome, alla pressione del tasto Stamp o Print Screen, con molta intuitività l'utente è in grado di catturare l'intero schermo, parti di esso o singole finestre, come immagine o effettuando registrazioni video. Una recensione seria non può sorvolare sulla disponibilità di documentazione, di un blog e della vitalità della sua comunità, che si tratti di un wiki o di un forum. Quanto alla documentazione ufficiale di Zorin OS, il sito web è ben fatto, chiaro, ricco di screenshots e viene spesso aggiornato. L'aspetto è gradevole ed elegante come quello del sistema operativo. L'utente di Zorin OS trova una guida integrata che, a differenza della versione web, è tradotta anche se per ora solo parzialmente. Anche il blog ha lo stesso aspetto gradevole e riporta dettagliatamente le novità delle iniziative del gruppo Zorin. Una menzione la merita anche la generosità della sua comunità di utenti che contribuisce alla vitalità di un forum in cui trovare soluzioni fornite dai moderatori non meno che da altri utenti. Le prossime novità in arrivo dal Team Zorin non sono poche. Anzitutto è in corso di test lo strumento di aggiornamento di versione per il passaggio dalla 16.3 alla 17. L'utente riceverà una notifica di sistema sulla sua disponibilità. Non è indispensabile abbandonare la versione precedente che riceverà aggiornamenti fino a giugno 2025. Altre novità che seguono di qualche settimana il rilascio di nuove versioni è quello del rilascio delle edizioni Lite, alleggerite e basate su modifiche all'ambiente desktop Xfce 4.18. Saranno disponibili per la Core, la Education e le rispettive Pro. Infine, presumibilmente entro la fine dell'inverno, vedrà alla luce il nuovo servizio Zorin Grid per la gestione unificata di flotte di computer. I dettagli del servizio non sono ancora disponibili. Presso utenti Linux già navigati, Zorin OS incontra alcune critiche. La prima riguarda il fatto che si basa su una versione di Ubuntu LTS che sta per essere sostituita da una nuova. Zorin OS 17 prende una parte di pacchetti software della versione di Ubuntu con supporto per cinque anni rilasciata ad aprile 2022. Ora, io non credo che un utente che può contare di raddoppiare quasi la vita del suo PC, passando a Linux, contando su tre anni di aggiornamenti prima di dover saltare alla versione successiva debba preoccuparsene. Anzi, il fatto che si tratti di una base della 2204.3 garantisce che molte criticità siano già state affrontate e risolte. Inoltre, nei repository DEB di Zorin si trovano pacchetti anche in versioni molto più recenti rispetto a quello della sua base Ubuntu. E ogni rilascio minore che viene rilasciato per i successivi due anni ogni sei mesi vede sempre novità in questo senso. Zorin OS quindi non nasce vecchio e superato, ma basato sulla massima stabilità raggiunta dalla versione più affidabile e robusta di Ubuntu e riceverà aggiornamenti ancora per anni. Un'altra critica nei confronti di Zorin OS è la sua particolare impronta commerciale. Molti utenti Linux fedelissimi allo spirito più libero desiderano sistemi operativi su base comunitaria, cioè sviluppati da e per i propri utenti. Ma alcuni pretendono che gli sviluppatori professionisti lavorino sempre gratuitamente. Le licenze open source non sono affatto incompatibili con il lucro. Senza un'impronta commerciale non esisterebbero Red Hat, Ubuntu, Elementare OS solo per citarne alcuni. Red Hat limita l'accesso ai propri codici sorgenti e ai clienti delle soluzioni a pagamento. Ubuntu è gratuito, ma raccoglie e rivende numerose informazioni personali e di utilizzo. Elementare OS ti fa credere che tu debba acquistare il sistema operativo e promuove nel suo centro software programmi per cui è previsto un incoraggiamento a pagare un corrispettivo, ma nasconde molti pacchetti deb open source e gratuiti dei repository che trovi e installi solo da rega di comando. L'idea di pagare una cifra, concordo, fissa e non proprio bassa, per l'edizione Pro è criticata anche ferocemente. A fronte di questa cifra si sostiene ricevi programmi installabili anche gratuitamente e sono sbloccate solo personalizzazioni grafiche. Anzitutto gli utenti Pro hanno anche accesso al servizio di assistenza in caso di problemi. Ma l'errore è considerare tale cifra un corrispettivo perché in effetti costituisce una forma di supporto. ecco perché quando l'acquisti ricevi un ringraziamento proprio per il supporto del progetto in tutte le edizioni. L'edizione Core è completa di tutte le funzioni della Pro senza alcuna menomazione. Nessuno ti obbliga ad acquistare l'edizione Pro di Zorin OS. Non lo ha fatto nemmeno il comune di Vicenza che a partire dal 2016 ha intrapreso un percorso di migrazione delle oltre 700 postazioni computer da Windows a Zorin OS. Puoi benissimo accontentarti di 4 differenti impostazioni desktop invece che 10, installare da solo tutti i software che vuoi e risolvere in autonomia eventuali problemi. Concordo però sul fatto che il marketing nell'attuale comunicazione adottata nel sito web lascerebbe intendere ad un inesperto di Linux che l'acquisto dell'edizione Pro sia indispensabile per procurarsi programmi in essa inclusi, che sono open source ed installabili in autonomia dal centro software. La mia esperienza con Zorin OS 17 conferma la mia personale idea, che si tratti, insieme a Linux Mint Cinnamon, di una delle distribuzioni Linux più adatte ad affrontare un passaggio da Windows a Linux. Specie perché l'autunno dell'anno prossimo terminerà il supporto per Windows 10 e trovo pochi utenti Microsoft entusiasti di passare a Windows 11 o quello che sarà. Un'affidabile base Ubuntu abbondantemente ripulita e arricchita di dettagli interessanti. Completezza e piena funzionalità sono garantite già a fine installazione. L'esperienza desktop risulta intuitiva, gratificante ed elegante pur nella completezza di gestione e personalizzazione senza allontanarsi da un'organizzazione sobria, senza fronzoli e distrazioni. Che permette di utilizzare senza problemi un computer con dual core e 4 GB di RAM dell'era di Windows 7, per intenderci, allungando nella vita ben oltre le previsioni di obsolescenza. Supporto e aggiornamenti per tre anni senza costi, per livelli di sicurezza superiori anche senza un antivirus. L'accesso alle decine di migliaia di software open source gratuiti che possono comunque essere affiancati da software proprietari e a pagamento. Ma questo non significa che Zorin non sia adatto ad utenti più esperti, a computer modernissimi e potenti o ad un utilizzo professionale. Ne sono prova, ad esempio, la possibilità di integrazione in reti Microsoft, le modifiche effettuate a LibreOffice per garantire una superiore compatibilità con la Swift Office, le funzionalità native di controllo di desktop remoti, solo per citarne alcune. Quindi consiglio Zorin anche ad utenti più smaliziati ed esigenti, che desiderano un sistema che si installa rapido, non riserva spiacevoli sorprese e permette di concentrarsi subito sulle attività. Inoltre, quando scopri le persone che stanno dietro ad un progetto di questo genere, le cose cambiano ancora in meglio. A chi non abbia sentito già parlare o abbia già provato Zorin OS, può risultare difficile credere che i fratelli Zorin siano gli unici contributori ufficiali del progetto, generosamente affiancati da un programmatore italiano e pochissime altre figure di contorno, tra cui i validi e generosi moderatori del forum di assistenza. Zorin OS è con noi da 15 anni, 17 versioni maggiori e da un futuro radioso, e compete quanto a popolarità con colossi del settore del calibro di Debian, Red Dead con la sua Fedora, Canonical di Ubuntu e altri. Espresso il mio parere personale, però vorrei conoscere il tuo. Da quando invito i lettori del blog e gli utenti del canale YouTube a far sentire la loro voce attorno alle mie pubblicazioni, si raccoglie un valore impressionante che doppia quello dei miei contenuti. Conosci Zorin OS? L'hai provato? Lo scopro interesse in questo senso e se il video supera i 600 like, penso che potrebbe valere la pena trattarli. Quindi forza con il pollice su! Ma grazie comunque per il tuo interesse alla mia recensione e a presto!